Siamo in via degli Argonauti, quindi nel borgo di Vernazzone, accediamo a vedere questo bellissimo locale con ingresso indipendente. Era un'antica macelleria, i proprietari quindi hanno voluto mantenere gli antichi marmi alle pareti. Questo è un unicamente però dotato di due finestre per cui estremamente indivisibili per un piccolo ufficio, qualsiasi tipo di attività uno desideri fare. I proprietari poi qui hanno creato un bagno, secondo le normative vigenti, quindi con antibagno, come potete vedere, e bagno vero e proprio dotato di tutto. Rifacciamo una panoramica, qui è l'ingresso con questa bellissima porta finestra. Ecco qui vi faccio vedere il recupero degli antichi marmi, degli antichi attrezzi della macelleria, molto caratteristico. Per cui siamo a Vernazzola, ingresso indipendente. Di fatto sono due ambienti perché uno volendo li divide essendoci la doppia finestra. Qui terminiamo la nostra...